Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Adesso ricordo nello studio di Renzo Piano c'era un giovane architetto tedesco, adesso mi viene in mente, era un ristorante al Petit Cambogène, aveva 28 anni. Questo per quello il ricordo mi ha colpito la persona. Ci prendiamo l'impegno di mantenere in vita anche dal punto di vista accademico con quello che verrà fuori dalle borse di studio. Ovviamente questo non restituisce vostra figlia, vostra sorella, però è un modo che vogliamo fare e che vogliamo fare insieme con la Francia, con il Presidente Hollande, con l'Università Sorbonne. E' stato molto commovente andare a parlare alla Sorbonne nei giorni successivi. Andrea comunque è lì a Parigi, che è tornato subito. E' rimasto la fiancera. Il lavoro. Ci ha fatto un grande onore rimanere a Parigi, è stata la prova che è rimasto fedele e che voleva appunto continuare quello che faceva lei. Aggiungo solo che è stato qui di recente, a febbraio, dopo due mesi, però giustamente come genitori noi abbiamo sempre rispettato anche il silenzio, il suo dolore composto. E l'unica cosa che gli abbiamo voluto chiedere è come stava, come dice lui. La cosa che ci ha voluto dire è che sappiate che io sto bene dove vivo, dove lavoro a Parigi, non più come prima, però sto bene in Francia con i francesi. Questo ho detto. Non lascio io, volevo dire, volevo perché. E io tenia a voler dire. Grazie. Si il aveva qualcosa che si manifesto per di me. Grazie, perché ogni stessa cosa si può manifestare. Dalla famiglia franco-italiana. Siamo della famiglia franco-italiana. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie.